a con una mandata ragazzi ben ritrovati dal vostro di giochiamo 89 raga sto senza voce però voglio registrare perché GR26 non ho registrato un po' la voce la sto recuperando ma direi che sta più da là che da qua se invece parlo un attimo così e faccio di questo riesco a parlare ma dato che non voglio diventare scemo parlo un attimo così signori mi raccomando supportiamo come tutti i video Clash Royale e anche gli altri ragazzi tra l'altro se non ve l'ho fatto già vedere e spero di no voi sapete che ho provato a vincere la sfida dello stregone del ghiaccio lo stregone elettrico perdonatemi vi ricordate io avevo incominciato la mia scalata con 20.000 d'oro scrivendolo qua sotto secondo voi dopo quei quattro giorni di sfida quanto oro ho accumulato scrivetelo qua sotto ci avete due secondi quindi stoppate un attimo il video scritto ragazzi facendo quella sfida ho 218.000 d'oro regà facendo quella sfida là arrivando quasi sempre 11 partite 7 partite 8 partite ho guadagnato 218.000 d'oro qualcosa di devastante signori questo è il mio tech sto andando abbastanza bene adesso come adesso in italia infatti siamo ventiquattresimi è un tech molto particolare che però mi ci trovo abbastanza bene ora non so i livelli alti se può essere utile o no vedremo se riesco vi faccio tre partite ma calcolando che registro c'è parlando tantissimo registro non so se ci riesco proprio con le corde vocali a supportare una cosa del genere quindi subito subito palla di fuoco senza neanche a starci a pensare tanto così lui è andato sotto di sir potevo anche fare in maniera differente ma sinceramente non mandava quindi golem per lui a saperlo ci avrei buttato franco a destra insieme ai miei ragazzi e sicuramente avremmo dato del filo da torcere per fortuna se non sbaglio quella torre lì dovrebbe essere andata a fare in culo se abbiamo un po di fortuna che purtroppo non abbiamo avuto vediamo un po se niente tutte le sfighe ci devono di giustamente a noi quindi proviamo 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 a supportare al meglio il nostro ragazzo buttando anche gli spiriti del fuoco là e ci siamo comunque portati a casa una torre molto molto importante tra l'altro per chi mi ha seguito sulle classifiche italiane ovviamente non c'ero perché appunto ho giocato tantissimo alla sfida dello stregone del ghiaccio ma tanto 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 quindi non potevo praticamente esserci potevo rifare la stessa cosa ma non la rifarò preferisco togliergli l'estrattore di elisir e rimanere carico e rimanere carico lui amma mia la voce lui c'è il moschettiere che ovviamente mi dà un fastidio boia veramente boia possiamo fare così d'accordo ci siamo posso fare così così almeno più o meno una insrifugliata gliel'abbiamo data dato che comunque la torre l'abbiamo persa direi che possiamo comunque che farcela abbastanza bene attaccando di prepotenza la sua torre perché noi in fondo in fondo ci fa schifo la sua torre quindi lui dovrebbe qua errore mio qua errore mio dovrei pensare di più al gioco lui parte con il moschettiere da dietro quindi posso fare così faccio così posso buttare questo qua diventa un problema se non riesco vabbè non dovrebbe farcela assolutamente cioè non dovrebbe arrivare mai a destinazione quel golem anche perché non ce lo farei comunque arrivare io quindi ok una scarica un po così devo essere sincero con voi mi sono sbagliato quindi barbari scelti a coprire il nostro edificio so che lui ha la palla di fuoco ma a me sta anche bene in fin dei conti noi abbiamo tante a noi abbiamo tantissime unità all'attivo questo ce ne siamo accorti tutti quanti ora secondo me ok perfetto posso fare così sicuro olè yes signori yes signori yes tra l'altro adesso gg per c mi raccomando sto ancora nella mentalità che la palla di fuoco mi toglie 290 perché livello 9 e così invece toglie un fottio di più quindi fra i livelli cambia proprio tantissimo il modo di giocare cambia da impazzire ragazzi e quindi uno dice normale se sai giocare in arena leggendaria probabilmente non sei capace a giocare arena 9 perché sono due arene completamente completamente differenti tra l'altro ho un tono di voce più o meno accettabile perché sto comunque cercando di parlare un pochino più lentamente rispetto alle altre volte o forse perché ormai ho riscaldato la cura dato che ho anche registrato le big brothers sage tra l'altro anche male ero abbastanza distratto devo essere sincero però alla fine ci sta vi consiglio vivamente di andarvi a vedere e big brothers seggi ragazzi ma è una gioia poteva pure capitare a me un po meglio e cioè mi poteva anche capitare un pochino meglio a punto lui ve lo butto lì immaginavo un attacco del genere quindi preferisco fare un attimo così eventualmente posso splittare loro mando i barbari scelti a destra e i danni li abbiamo fatti zappettina zappettina zappettona a me basta e mi tirate due tre botte io sono contento seriamente vi ricordo che lui ha il minatore però non così esatto me lo immaginavo quanto cazzo va sembrava che lo sapevo sembrava che lo sapessi eh grazie 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 allora lui ha gli scheletrini quindi se tiro questo dovrei vedere se ho la scarica pronta anche è vero che non lo tirerò magari preferisco subire del del dei hit abbastanza importanti perché comunque quello si toglie in quella maniera bom bom ragazzi dico solo bom e basta dico solo quello solo 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 quello ok potrei più o meno rifare la stessa cosa questa volta ma con gli arcieri quindi splittando gli arcieri sicuramente subirò qualche hit importantissima sotto al culo lui a naia la mannaia ok che tra l'altro così male non è andata ve lo posso garantire vai 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 ragazzi vai 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 ragazzi vai 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 ragazzi mangiamoci lì mangiamoci le rega mangiamoci lì quindi tante tante hit ma veramente tante hit anche lui qua ci farà assolutamente male anzi è stata una bellissima morsa da parte sua voglio proprio rega voglio esagerare c'è presente quando uno esagera di cc non ce n'era assolutamente bisogno lo so ma io voglio esagerare questa la posso utilizzare qua perché tanto non ho più intenzione di attaccarlo direttamente ragazzo perché per me se la prende super il culo quindi togliti togliti da là bravissimo e ce la prendi super il culo merda yes signori yes stiamo giocando veramente bene il deck è molto particolare 36 coppe per noi sono davvero davvero tante e siamo vicini alle 5000 c'è abbiamo un bel baule della corona che ci regala una strega e male non è no non stiamo in tv royal e tante volte stiamo in tv royal signori l'ultima partita di oggi che potremmo anche pensare di perderla infine no 11 6 ne vinte 22 su tre va bene ma noi punteremo a vincerla voglio vedere alla fine di questa sessione di video sessione intesa una lega perché con la voce che c'ho insomma devo andare registra o dead rising ori ma preferirei registrare tantissimo ori e tra l'altro vi invito a guardare ori questo nova i brazil mi preoccupa un po perché se perdiamo ci toglie tanti punti belli 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 potrei attaccare con la sfera infuocata ma voglio un attimo evitare anche perché ok quindi facciamo così perché se io faccio così ok se io faccio così e poi faccio così lui il cannone praticamente l'ha buttato al cesso no ci siamo cannone l'ha buttato al cesso va bene ci sta anche questo ragione guarda ti guarda te la voglio dare per buona lui allora ragazzi uno dice vabbè hai perso in realtà no in realtà no perché lui per difendersi da questo contrattacco quante quante risorse ha buttato raga ma serio quante ne ha buttate ne ha buttate uno sfracello quindi bello l'attacco suo ma non mi ha fatto impazzire quindi a mio avviso dovremmo essere sempre sopra di elisir a mio avviso potrei sbagliare tantissimo potrei sbagliare tantissimo non credo però 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 quindi dai 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 ragazzi ci avete anche il supporto aereo sto giro bene bene così bene così vaffanculo a te merda va bene così ti zappo anche la madre di zappo ma di che stiamo parlando tiragli una botta a quel mega sgherro bravo così bravo così io quel domatore te lo ficco nel culo hai capito bastardo e sto giro me sono rimasti anche gli spiriti del fuoco bastardo quindi tra l'altro ultimamente trovo abbastanza inutili gli arcieri non mi chiedete il perché ma effettivamente li trovo li trovo a mio avviso abbastanza inutili ora che tu mi vuoi attaccare di là a me ma che me può fregare meno nel senso no quindi questa mossa mi è piaciuta notevolmente perché guardate quell'arciere infame quello è l'arciere infame quello è l'arciere che ti fa vincere una partita e ne fa perdere una a lui bestemmiando in anglosasso è l'arciere che ti dice mamma mia quanto sta bestemmiando tipo tu non sai neanche fantastico posso anche provare a fare una cosa abbastanza sfiziosa non voglio non voglio tirare assolutamente cose che mi potrebbero aiutare nella vincita di questo momento infatti guardate c'è mi sono fatto anche i grandissimi cassi miei tra l'altro è quindi gg per c ragazzi tre vittorie su tre a dei livelli alti a dei livelli molto molto alti quindi bene 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 signori 4.986 coppe devastante ciccio che me l'89 torna come lo squalo signori io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua spero che il video vi sia piaciuto se fosse così mi raccomando pollicione in su commentate condividete se non siete iscritti iscrivetevi andate a vedere gli altri video non ve ne pentirete al prossimo appuntamento posto ciccio che l'89 prima o poi tornerà la voce bella la voce bella